bella a tutti ragazzi siamo su questo video di minecraft sono andato molto avanti o anche un po esagerato sono fatto la farma ho esagerato senza di voi scusatemi ho trovato i diamanti però non ho fatto mappa le zappe scusatemi però dovevo andare avanti mi sta annoiando in un giro dovevo fare la gita una gita e mi sta annoiando e continuato minecraft sicuramente comunque a voi comunque scrivi sotto nei commenti se vi è piaciuta la parte iniziale dove c'era scritto buona visione ci abbiamo 20 lingotti ho trovato un sacco di lingotti ci sono fatto la miniera 48 lingotti faccio subito vedere quando non era qua non era qua era qua era lunghissimo comunque abbiamo 48 lingotti ma noi non ci servono per farci l'armatura ce l'abbiamo già ho completato l'armatura di ferro diamo anche questi abbiamo la fada di diamante pure e tanti stack di pietra che modo dovremmo andare a metterli nella nella dovremmo andare a metterla dovremmo andare a metterli nel magazzino che tutti prendiamo c'è la spada in mano e andiamo all'attacco un boom 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 penso dove penso che dovremmo chiudere qua c'è bello piccone porca lo zombie raga vabbè andiamo acqua e ci mettiamo tutti le stack strano che sto raccogliendo solo questi raga perché ha chiusi dimmelo che mazzo ora che la batteria raga la batteria eccoci tornati ho messo il filo alla fine vi farò vedere la copertina del video di un nuovo video c'è un link a 3 4 5 6 7 8 8 lingotti nuovo 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 oh raga si ferro 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 a volontà ferro a volontà raga ferro a volontà in questo minore è pieno di ferro si raccogliamo raccogliamo ok vediamo che non si può spiegare niente esaltando qua raga guardate quanto ce n'è guardate quanto no vabbè raga ci ho trovato un sacco di ferro ci faccio tutto cosa ci posso fare questo ferro non ci ho fatto l'armatura vabbè poi farò un sever in survival che ci posso fare con questo ferro che ci posso fare mio dio vabbè qua ci abbiamo il ferro no qua non ci interessa adesso sono andato nel nether a prendere il creeper mi ha fatto esplodere il portale non l'ho più avuto guardate guardate ok facciamo che possiamo andare che ci fa una piantagione ok 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 chiudiamo cancello e se andiamo andiamo a ragazzi ragazzi faccio questi lingotti perché i lingotti ce ne ho già troppi cacchio non so cosa fare con tutti questi lingotti no vabbè perché sono troppe cose troppe 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 dai vediamo quanti sono 25 non ce ne abbastano se ce ne abbastano 19 euro c'è l'asino sta a posto andiamo a vedere la continuazione come sta andando ok ok sta andando bene oggi voglio costruire con voi qualcosa e cosa posso fare raga aspettiamo ok proviamo allora con 8 e 18 lì non mi servirà possiamo migliorare infatti qua mi esce sempre tutto il grano e non mi piace quindi facciamo uno lungo così ok qua possiamo raccogliere materiale che non mi serve ho sbagliato qua costruire la farm di zucane ci vediamo quando è tutto tutto ok ragazzi è tutto tutto è rimasta solo questa piattaforma che non ci servirà però qua ci potremmo fare una base dove lo faremo con i cartellini che c'è in più e più qualcosa e poi l'altra qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui ecco qui facciamo così perché la ci dovremmo mettere la ci dovremmo mettere la finestra continuiamo con i ciotoli ok ok per ora va bene facciamoci questa base la vita così qua ci prenderemo uno zombie e lo trasformeremo prima di tutto ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo se mi scappo se non puoi scappare ok poi qua ci metteremo un belicazio vediamo se funziona se io mi rivolgo così ok facciamo 4 e qua ci prenderemo lo zombie e qua ci metteremo poi ok così potrebbe andare bene ok qua ci prenderemo poi spaccheremo e chiuderemo la porta se io avrei un po' di legno potremmo fare la porta se non la faremo di terra sì infatti c'ho molto di questi di lingotti c'è uno stack andiamo ci facciamo una porta una porta andiamo a prendere andiamo a prendere l'armatura che mette che poi cattureremo andiamo a prenderemo a prendere un apple e poi sono davvero buoni il genere di ferro di ferro e una spada di diamante e una spada di diamante ok io vado a catturare lo zombie ci vediamo fra poco eccoci tornati eccoci tornati raga ok ho catturato lo zombie gli ho messo l'armatura campo scusatemi vediamo se possiamo usare così ok stavo dicendo che ha catturato lo zombie ci farà au avete visto non ci fa niente ok il cuore ce l'ho allora oh oddio amico abbiamo un po' di farlo ok diciamo che questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video bella raga ciao